Musica Iniziato il giubileo della misericordia al santuario di Velva, luogo di riferimento per molti abitanti delle vallate, il vescovo Tanasini ha battezzato anche un bimbo. Il dono del vescovo Corrado Sanguinetti, festeggiato dalla famiglia della Diocesi e da quella d'origine, una grande gioia per tutti. Il Papa al corpo diplomatico chiede impegno perché non venga meno lo spirito di umanità e perché venga combattuta la cultura dello scarto. Una violenta amareggiata sta interessando le coste del Tiguglio con mare forza 9 e onde alte fino a 4 metri, il picco previsto per questa notte. Buongiorno ai telespettatori dell'ETG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Il giubileo della misericordia è iniziato solennemente al santuario di Nostra Signora della Guardia a Velva di Castiglione Chiavarese. Nella solennità del battesimo di Gesù, il vescovo Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato la messa e ha anche amministrato il sacramento del battesimo al piccolo Matteo. Sentiamo le interviste. Un cammino che inizia oggi ma che deve proseguire poi in questo anno? Sì, solennemente è cominciato oggi. Qui ci sarà, grazie a Dio, un sacerdote stabile, un religioso che ha scelto, ha ottenuto anche il permesso di poter stare qui proprio per aiutare a vivere questo anno. Io vengo dalla Nuova Salanda però è un po' di anni fa. Qual è il carisma della sua congregazione? Noi intercediamo per la pace, preghiamo per la pace e siamo, diciamo, ispirati alle apparizioni presunte di Maria Michigori e quindi accogliamo i suoi messaggi soprattutto di pregare per la pace. È una comunità contemplativa. Nel giorno in cui si è aperto il giubileo a Velma avete avuto la gioia di battezzare Matteo. Che momento è stato? Un momento molto emozionante, voluto, perché comunque Matteo lo volevamo battezzare il 10 di gennaio e poi ci hanno proposto di battezzarlo qua, perché comunque oggi è anche la festa del battesimo di Gesù. Tanti fedeli hanno accolto questo invito in occasione dell'apertura anche in una giornata non proprio bella dal punto di vista meteorologico. È una grande dimostrazione di quanto veramente le persone tengono a questo santuario, perché poi tanti sono anche venuti a piedi e questa è un'altra ulteriore dimostrazione di quanto veramente la gente sente questa chiesa. Voi da dove venite? Da Casarsa. Com'è stato questo momento? Bellissimo. Emozionante, bellissimo. Santuario di Velma è un riferimento importante. Sì, sì, certo. Io ormai abito a Genova, però diciamo che è la mia vallata, quindi torniamo sempre qua appena possibile. Anche per la Madonna della Guardia siamo sempre... È un momento di richiamo. Un momento di richiamo, sì, sì. Facciamo un passo indietro. A sabato la diocesi ha vissuto con gioia l'ordinazione episcopale di Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo eletto di Pavia. Nel discorso conclusivo il neovescovo ha ringraziato in modo particolarmente sentito la famiglia, quella diocesana e quella di origine, dove è maturata la sua vocazione sacerdotale. Al termine della celebrazione abbiamo intervistato le sorelle e il fratello. Sentiamo. Veramente è una giornata che rimarrà nel cuore di voi familiari. Sì, certamente rimane nel cuore di tutti. Per noi è proprio una grande grazia per la nostra famiglia, una grazia inaspettata. E io penso che sia anche una grazia per la Chiesa, perché il nostro fratello Corrado sarà un grande pastore, perché abbiamo visto in questi anni crescere il suo amore a Gesù e il suo amore alla Chiesa. E quindi questo penso che sarà un dono per tutti, quelli che lo incontreranno. Cosa dice il fratello più piccolo? Meglio che non parlo troppo, perché sono veramente contento per mio fratello, per la mia famiglia, per i nostri amici. Perché comunque oggi è stato evidente che siamo stati incontrati da una cosa bella nella vita e non ci ha più lasciati. Quindi sono proprio contento. Tra l'altro lui ha ricordato, insomma, la famiglia come Chiesa diocesana, ma ha rimarcato la vostra famiglia, la famiglia vostra di origine. Sì, assolutamente. Ognuno ha fatto a modo suo, ma proprio bella. Sì, perché la vocazione di Corrado comunque è cresciuta nella nostra famiglia. Anche quella ci è giunta inaspettata, perché quando lui ha detto a tutti che entrava in seminario, noi pensavamo invece che avrebbe iniziato l'Università a Genova. E quindi, insomma, ci continua a cogliere di sorpresa, con sorprese molto belle. L'emozione è stata quando l'abbiamo saputo. Adesso diciamo che l'avevamo già un po' metabolizzata. Comunque è stata una cerimonia commovente. Io ho pianto molto, ho pianto molto. Sicuramente lo seguirete. Lo seguiremo, sì, 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 sì. Siamo una grande famiglia, per cui da noi l'aspetto dell'affetto non mancherà mai. E uno speciale dedicato a propria ordinazione sarà messo in onda questa sera alle 21.10 su Telepace 1. Saranno proposte le interviste. Sarà anche ospite, Monsignor Corrado Sanguinetti, che sarà ospite a sua volta questo pomeriggio, nel Buon Pomeriggio, di Teleradiopace. Il Papa adesso, questa mattina, ha ricevuto nella Sala Regia in Vaticano il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per il tradizionale scambio di auguri di inizio anno. Vediamo il servizio. Un'ampia panoramica sui problemi del mondo è stata presentata dal Papa come consuetudine in occasione dell'incontro con il corpo diplomatico. Il punto che sta più a cuore al Pontefice è la costruzione della pace. Va in questa direzione anche il Giubileo della Misericordia, inaugurato eccezionalmente a Bangui, in Repubblica Centrafricana, dove il Santo Padre ha voluto ribadire, insieme con la comunità musulmana, che chi dice di credere in Dio deve essere anche un uomo o una donna di pace. L'altro tema portante dell'Opera della Santa Sede è la difesa della famiglia, prima e più importante scuola di misericordia, nella quale si impara a scoprire il volto amorevole di Dio. Il Papa si è soffermato in modo accurato sulla grave emergenza migratoria, migliaia di persone in fuga da guerre orribili. Rimarranno sempre indebilmente impresse nelle nostre menti e nei nostri cuori le immagini dei bambini morti in mare, vittime della spregiudicatezza degli uomini e dell'inclemenza della natura. Molti migranti lasciano il proprio paese perché costretti a farlo. Tra questi vi sono numerosi cristiani che sempre più massicciamente hanno abbandonato nel corso degli ultimi anni le proprie terre che pure hanno abitato fin dalle origini del cristianessimo. L'imponente flusso di profughi che per dimensioni non ha precedenti in Europa, neanche al termine della seconda guerra mondiale, sta minando lo spirito di umanità. I timori per la sicurezza sono esasperati dalla dilagante minaccia del terrorismo internazionale. Tuttavia, ribadito il Papa, va combattuta la cultura dello scarto per la quale le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se poveri o disabili, se non servono ancora come i nascituri o non servono più come gli anziani. Torniamo sul territorio, una violenta mareggiata sta interessando in queste ore le coste del Tiguglio. Siamo andati a vedere la situazione nei diversi punti della costa. Dalle prime ore di questa notte un forte vento di Libecio sta sospingendo il mare e una violenta mareggiata sta colpendo in queste ore le coste del Tiguglio. Per il momento la situazione è sotto controllo, ma ci si aspetta comunque un'evoluzione anche per le ore successive della giornata. Mare è forza 9 e onde alte fino a 4 metri. Sono ore di attesa quelle che sta vivendo la costa del Tiguglio, flagellata in queste ore da forte vento da sud-ovest che sta spingendo il mare con forza crescente. Il picco, secondo gli esperti, è previsto per la notte, ma già da ieri sera chi ha potuto ha messo al sicuro imbarcazioni e strutture nella speranza che le onde non facciano danni. Piove nell'entroterra e l'acqua caduta fatica a trovare sbocco in mare. L'entella si vede dalle immagini e è al limite, ma per ora non sopra il livello di guardia. Il vento rende difficile camminare, soprattutto in prossimità della costa, ma in molti non rinunciano a guardare da vicino il suggestivo spettacolo che da un anno a questa parte non si vedeva. È venuto a vedere questo spettacolo? Sì, è sempre interessante, anche se preoccupante ogni tanto, ma comunque interessante. Lei è una barca qua in porto, che situazione c'è? Tranquillo, per ora è tranquilla perché lì è da vedere, non c'è grande movimento. Qual è la tua barca? Questa qua, bianca. Hai messo protezioni, temi che il mare salga? Per forza, abbiamo fatto una bella varicata. È da un po' che non si vedeva un mare così? È un pochino, dai, dall'anno scorso almeno. Da anni per ora non ce ne sono stati? No, niente, è arrivato fino a lì, se vuoi vedere, ma per ora niente. Speriamo che cali, dai. È uno spettacolo, comunque anche starà a guardarlo. È bello, bello, però ci fa paura comunque. Come si vivono questi momenti? Abbastanza in ansia, dai, da ieri sera sono venuti giù 5-6 volte a vedere. E ricordiamo che resta in vigore fino alle 18 di oggi l'allerta meteo gialla, con previsione di forti venti e piogge. A Rapallo sono stati chiusi per precauzione i parchi e i cimiteri comunali. A Genova, oggi a causa del vento di Burrasca e fatto di vieto di transito in sopraelevata, motocicli e mezzi telunati e furgonati, sono stati chiusi i giardini e i parchi storici comunali, nonché i cimiteri, ferme restando le regolari attività di accoglienza. E dove è possibile sono stati chiusi anche gli accessi pubblici al mare per scogliere per le giornate di oggi e quella di domani. Dunque è un fenomeno che è in evoluzione, vediamo come sarà quella per le prossime ore, lo abbiamo chiesto ai previsori del centro navi meteo di Chiavari. Sentiamo. È in atto un'intensa libecciata a largo che è intensificato nelle prime ore del mattino, sono state registrate da Capomele al Tigulio, raffiche anche di 40 nodi, la stessa Marina Chiavari stamattina ha avuto un picco di 37 nodi, quindi comunque è un fenomeno importante, intenso, che sta sviluppando onde che per il momento si attestano sui 4 metri, siamo per il momento su un fenomeno ordinario, tipico di un'intensa perturbazione autunnale. Non è detto che comunque il picco sia ancora stato raggiunto? Esatto, perché comunque dalle ultime elaborazioni dei modelli ci aspettiamo una certa persistenza del fenomeno nel pomeriggio, ci potrebbero essere a livello di vento ancora delle raffiche maggiori qui nel Tigulio, anche su Genova, rispetto a quelle avvenute nella mattinata, e poi dalla sera la libecciata potrebbe stendersi ulteriormente sul Ligure e quindi agire ancora sulle onde che quindi nella notte poi successiva potrebbero avere un picco anche superiore ai 5-6 metri sul Levante Ligure, quindi la mareggiata potrebbe persistere sulla notte e avere anche dal punto di vista degli eventuali danni un impatto maggiore. Quando potremmo dire essere fuori comunque dal livello di attenzione? Sì, poi dal pomeriggio di domani chiaramente si avrà un esaurimento del fenomeno progressivo e comunque il mare rimarrà agitato, quindi poi per una riduzione completa bisogna aspettare la giornata di mercoledì. In generale rimaniamo in una fase con una serie di passaggi, di sistemi perturbati, quindi non è escluso che poi nel corso del mese si possano sviluppare altre situazioni di mare agitato, quantomeno. Temperature restano sopra la media? Le temperature restano sopra la media, registriamo, nonostante il vento insieme all'umidità possa dare una finta sensazione di freddo a pelle, siamo sui 14-15 gradi, quindi valori decisamente superiori alla media del periodo. Ci aspettiamo, diciamo, nella prossima settimana o al termine di questa, un cambio radicale un po' della situazione perché ci saranno dei venti più settentrionali che quindi oltre a portare un tempo più asciutto potrebbero far diminuire anche sensibilmente le temperature, ma la neve è ancora lontana, quella vera insomma. Dunque questo è l'aggiornamento per quanto riguarda il meteo per le prossime ore e chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla mareggiata che sulla costa sta colpendo il Tiguglio andando in redazione perché ci sono ulteriori aggiornamenti sempre per quanto riguarda il meteo. Ce lo conferma Alberto Viazzi. Sì, bene, abbiamo visto le immagini del mare ingrossato, noi ora ci trasferiamo però nell'entroterra, stiamo per vedere le foto del torrente Aveto che si è alzato di livello. Diciamo subito che non ci sono state esondazioni e che tutto sommato la situazione non si presenta come particolarmente grave. Sta di fatto che vediamo nelle foto il torrente Aveto adesso è arrivato a un livello alto a causa delle precipitazioni abbondanti che si sono riversate nella notte e anche nell'arco della mattinata. Ancora adesso sta piovendo, ci sono state forti raffiche di vento ma ora il vento si è calmato. Abbiamo parlato con il sindaco di Rezzuaglio, il comune sta monitorando la situazione soprattutto a Cabanne e poi c'è un piccolo allagamento alla pista di edisoccorso di Rezzuaglio. Se comunque continuerà a piovere con questa intensità non ci dovrebbero essere rischi particolari. Se la situazione invece dovesse diventare più violenta dal punto di vista degli sversamenti allora ci potrebbe essere qualche problema. Attualmente la situazione è di normalità, le scuole sono aperte, tutta la viabilità è regolare e percorribile, la temperatura a Rezzuaglio si è attestata su 8 gradi e mezzo. Dalla redazione tutto. Grazie Alberto. Per la politica amministrativa il Consiglio Comunale di Sesti Levante è stato convocato per giovedì prossimo, 14 gennaio alle 21, con 13 punti all'ordine del giorno, tra i quali figurano 9 emozioni e interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali di Nicola Quest'Oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie. Il Corriere della Sera titola L'affondo di Renzi su Europa e riforme, Grillo dimissione alla sindaca di quarto e poi c'è l'intervista con Massimo D'Alema perché sbagliamo a battere i pugni sul tavolo. Colonia, più di 500 denunce, moleste di massa in Germania, nuovo caso in una discoteca della Vesfalia. E poi sotto la foto tra l'attore Sean Penn e il narcotrafficante El Ciapo. Casa Bianca, le parole di El Ciapo fanno infuriare. Penn, l'intervista al boss, se l'artista sfida la legge. All'interno del Corriere della Sera, ecco la mappa delle trivelle. Sono 326 le autorizzazioni per andare alla profondità della terra e del mare, compresi gioielli, isole, tremiti e pantellerie. C'è grande polemica. I Verdi, tramite Bonelli, dicono, hanno concesso un permesso per 5,16 euro all'anno al metro quadrato. Sulla terraferma in Lombardia sono stati accordati 15 permessi su terreni estesi 4.000 km quadrati. Siamo sul secolo XIX. Pianificate le aggressioni alle donne. L'accusa è del ministro tedesco Mass Pinotti, chi vuole asilo rispetti la legge. E poi c'è il tema dello sport. Orgoglio Genoa, Zemaili e Paoletti stendono l'Atalanta. Rimpianti Sampa, Marassi a salto finale alla Juve, ma è 1 a 2. Nel Levante, invece, vediamo, crescono i disoccupati. Il Levante è sempre in crisi. La crisi non recede. Dal 2014 al 2015 le pratiche di accesso all'indennità sociale sono aumentate dal 2 all'8%. L'allarme della CGL per il Levante mentre soffiano i primi deboli venti della ripresa nell'economia. Donne stranieri si confermano la categoria maggiormente a rischio. Arrancano le imprese artigiane. La perdurante difficoltà emerge dai dati Union Camere sul terzo trimestre del 2015. Buono, invece, l'andamento di chi ha deciso di investire sui mercati esteri. Ancora dal secolo XIX, Mezzanego da non luogo a meta dei golfisti. Invertita la tendenza all'abbandono, il comune pensa al domani e c'è un accordo per un campo di golf pratica. 11 frazioni, altrettanti campanile e una moschea. Viaggio nel centro popolato per il 12% dai migrati. Vediamo la foto della moschea, ma anche la foto di Don Bonaventure, il parroco di Mezzanego, che dice dal Burundi siamo arrivati in quattro. All'inizio avvertivo di fidenza, ora no. Festa nel Borgo di Renà, Sestri, Levante, per i 70 anni di matrimonio di Luigi Zolezzi e Luisa Sivori. La coppia di sposi ha festeggiato l'anniversario insieme ai figli, Alberto, Enrico e Paolo e a tutti i numerosi nipoti. Luigi, detto Lasca, e Luisa si sono sposati il 9 gennaio del 1946 nella chiesa di San Martino di Velva. A loro e ai loro familiari i più cari auguri da parte di tutto lo staff di Telepace. Ed ora riprende, dopo la pausa natalizia, il salotto di Telepace. Ci colleghiamo nello studio del Buongiorno con Cristina Oneto. A te Cristina. Buon pomeriggio Andrea e tutti i telespettatori. Riprendiamo dopo la pausa natalizia e naturalmente la prima puntata del nuovo anno del Buon pomeriggio di Telepace sarà dedicata agli eventi che la nostra diocesi ha vissuto in questi giorni. Partendo da ieri, l'apertura dell'anno giubilare al Santuario di Velva, una delle tre chiesi giubilari della nostra diocesi insieme a Santa Maria di Nazareth a Sestre Levante e Montallegro. E poi la grande festa che abbiamo celebrato insieme in diretta sabato all'ordinazione episcopale di Monsignor Corrado Sanguinetti che sarà nostro ospite in studio. Avremo la possibilità di collegarci anche in esterna. Avremo un collegamento con i suoi genitori. E andremo a ripercorrere con le immagini i momenti di questa celebrazione che ha richiamato molti fedeli. Quindi ci vediamo in diretta subito dopo la rotazione dei telegiornali, quindi intorno alle 14.30 e ci faremo compagnia fino alle 16.00. Grazie Cristina. In chiusura allo sport si è giocato il campionato di Serie D per il calcio. Vittoriosa la Lavagnese in trasferta contro il Bra per tre reti a zero. Pareggio invece a reti in violate per il Sestre Levante in casa contro il Pinerolo. E del Rapallo Bogliasco impegnato in trasferta contro l'Argentina Arma. Ma con la vittoria i bianconeri di Mister Danino consolidano il secondo posto in classifica salendo a 44 punti. Il Sestre Levante invece si attesta a 37 punti. Il Rapallo Bogliasco a 22 punti. È tutto per questa edizione del TG13. L'informazione ritorna questa sera 19.15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.